Mi sembra al minimo arrivare ultimo. Sono tentato, dopo ho detto no va. Allora, in ordine sparso. Mettetemi in fine da 5 così, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, so che volete stare con i vostri amici, però ricordatevi che se è un vostro amico resta giù, dopo vi fa il video quando scendete. Quindi slittatevi, perché se siete tutta la stessa squadra su, nessuno fa il video. Lo farò rompere qualche di un altro. Hanno un altro. Ecco. Giustamente quegli scaccone lì vai fuori peso. 1, 5, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.